Mercoledì 17 gennaio si è tenuta la prima riunione del Consiglio Presbiterale con il Vescovo Tremolada. Attorno al Vescovo, ecco, i sacerdoti si raccolgono, si riuniscono per cercare di individuare quanto viene appunto dall'alto come dono dello spirito, ma nello stesso tempo quanto viene anche dall'ascolto della realtà circostante. Ecco, per concludere quello che potrebbe essere la realtà poi del discernimento, cioè quell'ascolto attento dello spirito che passa attraverso l'ascolto della realtà circostante per arrivare poi a quelle scelte appunto di aiuto al Vescovo, dono che viene offerto al Vescovo di questi organismi che sono di carattere consultivo, perché abbia lui poi a fare quelle scelte necessarie per il buon governo, per il buon cammino della nostra Chiesa locale. Il Consiglio Presbiterale, il Senato del Vescovo, è costituito da sacerdoti che rappresentano l'intero presbiterio. Adesso spetta il compito di coadiuvare il Vescovo nel governo della Diocesi, affinché venga promosso nel modo più efficace il bene pastorale. Al centro della riflessione il tema della sinodalità. Il Consiglio Presbiterale mi sembra un momento molto importante per sottolineare un aspetto del sacerdozio che è fondamentale e che teniamo presente anche nel formare i preti del futuro. Il prete non deve mai agire con l'io ma con il noi. Fa parte di un presbiterio che deve scegliere insieme, camminare insieme e far crescere la Chiesa insieme. Camminare insieme, laici e pastori, è un concetto facile da esprimere a parole ma non così semplice da mettere in pratica. Una Chiesa sinodale è una Chiesa dell'ascolto, nella consapevolezza che ascoltare è più che sentire. È un ascolto reciproco in cui ciascuno ha qualcosa da imparare. Ascoltando anzitutto quelli che hanno più esperienza di noi perché comunque dobbiamo metterci per prima cosa in ascolto. Però siamo chiamati anche con parresia, con intelligenza a dire la nostra opinione perché non è perché siamo giovani che non ce l'abbiamo ma siamo chiamati davvero a vivere questa sinodalità fino in fondo mettendoci anche la faccia, mettendoci quello che pensiamo che può essere corretto anche dal Vescovo però dobbiamo dire la nostra opinione alla luce davvero della sinodalità. Grazie a tutti.